Buonasera dalla redazione da Giuseppe Recca. I cadaveri di due donne sono stati recuperati in acque italiane dalla motovedetta CP 268 della Guardia Costiera di Lampedusa. I militari hanno avvistato le salme dopo che avevano recuperato 62 migranti che viaggiavano su un barchino di 9 metri salpato dalla Tunisia. I cadaveri riconducibili a dispersi del naufragio dello scorso 24 aprile sono stati portati nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa. Investivano i bonus edilizi fittizi in criptovalute. La Guardia di Finanza ha sequestrato 8 milioni di euro. Questo a Palermo. Due e la società coinvolte, entrambe della zona, sono indagate a vario titolo 6 persone per emissione di fatture false omesse a presentazione della dichiarazione dei redditi, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio. Operazione contro il traffico di esseri umani nel Catanese. 25 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto eseguiti dalla Polizia di Stato della città etnea su delega della direzione distrettuale antimafia. L'accusa di associazione per delinquere è finalizzata all'affavoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I trafficanti, per lo più guiniani e ivoriani, offrivano ai connazionali pacchetti completi di viaggi e sono stati rintracciati in diverse località del territorio nazionale. Sciacca. Questa mattina sono stati effettuati interventi di bonifica nella banchina San Paolo e nelle vie Canzalamone dei Tonnaroti. Si tratta di interventi purtroppo necessari in zone di grande interesse turistico che l'amministrazione ha chieste e ottenuto dalla ditta Bono che gestisce insieme alla Sia il piano aro comunale. Si tratta di rifiuti indifferenziati, mentre l'area portuale è stata interessata dalla bonifica che ha riguardato soltanto i rifiuti speciali, anche questa con costi rilevanti. Domani riunione in prefettura per fare il punto sulle criticità della gestione di AICA per quanto riguarda il servizio idrico in provincia di Grigento, ma anche per la questione della trasparenza sulla nomina del CDA. È stata intanto superata anche la vicenda della presunta incompatibilità del nuovo presidente del CDA di AICA, Settimio Cantone, venuta fuori all'indomani della designazione legata al ruolo di consigliere comunale del fratello Carmelo. Da questa mattina a quest'ultimo è uno dei due nuovi assessori della giunta municipale di Agrigento guidata da Franco Micichè, l'altra new entry è Gerlando Piparo. Sport ha un successo e due podi per la Ippon. Lentini impegnati ieri a Rimini alla ventiduesima edizione dell'Adidas Open, gara internazionale di karate olimpico con 1753 150 atleti e 320 in società. Con una condotta brillante ha vinto nella sua categoria Irene Marturano, mentre Paolo Propizio e Demma Colletti si sono classificati secondo e terza nelle rispettive categorie. Quinta posizione per Andrea Danne, Giuseppe Giuliotta, nona per Santo Scaturro. Ci fermiamo qui, grazie e buona serata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.